In questo video vi spiegherò come utilizzare la DaVinci Resolve da un livello 0 a un livello 100 Ciao, mi chiamo Giacomo, 16 anni e faccio il filmmaker DaVinci Resolve è infatti un software di uso professionale per fare editing video, editing di film o comunque la particolarità di questo software è effettivamente la color correction ma lo andremo a trattare più avanti nel video In questo video imparerai le basi di questo programma e come utilizzarlo per montare e editare i tuoi video che siano video aziendali, che siano video musicali, che siano video pubblicitari insomma imparerai davvero di tutto Per la prima parte di questo video mi sono deciso di parlare di impostazioni iniziali del programma ce ne sono 4 La prima parte per utilizzare questo programma è andare a installarlo dal sito ufficiale di DaVinci Resolve di Blackmagic Design e andare a scaricare l'ultima versione, in questo caso la 18, gratuita che vi permette appunto di andare a editare un video e andare veramente a fare di tutto quindi andiamo a scaricarla, poi andiamo ad accettare se siamo sul Mac le varie condizioni, le varie cose se su PC la stessa cosa andiamo a aprire il file, andiamo a dire al computer che non è un file crackato comunque non è un file rubato perché è un file del sito ufficiale quindi non c'è niente di cui preoccuparsi La seconda cosa è la creazione di un nuovo progetto quindi andiamo in alto su file e facciamo un new project e in questo modo andremo a creare un nuovo progetto che potremmo andare a modificarlo chiaramente ma andremo anche a soprattutto decidere i nostri parametri di registrazione i nostri parametri della timeline quindi come andremo a vedere la timeline se in risoluzione originale o ad esempio in un ottavo, in un quarto, in mezzo io vi consiglio di tenere il più basso possibile perché alla fine quando farete stop la timeline dopo qualche secondo riandà in risoluzione originale quindi basta che sostanzialmente per fare la color correction fate pausa andate su un frame che va abbastanza bene andate a fare la maschera sulla faccia per andare a schiarirla e andate a sistemare un paio di cose comunque questo video è interamente editato da DaVinci Resolve e Final Cut perché Final Cut mi serve proprio di tarlo e DaVinci Resolve per fare la color correction dovremo come terzo passo andare a importare le nostre foto o i nostri video che ci permetteranno appunto di andare a creare un vero e proprio video per andare poi a organizzare ed è fondamentale tutti i nostri file nelle cartelle che ci sono all'interno di creare delle nuove cartelle all'interno di DaVinci Resolve e di andare a mettere in ogni cartella dei file quindi ad esempio foto, video e audio seconda parte è la parte vera e propria del montaggio quindi dovremo andare a tagliare e ritagliare la nostra clip quindi ad esempio a tagliarla quindi fare un taglio quando ci sono degli spazi vuoti e andare a ritagliarla ad esempio facendo uno zoom in e uno zoom out quindi in questo modo e semplicemente si vanno a mettere i keyframe che sono a destra quindi andiamo a mettere un primo keyframe a 100% tutto normale e poi il secondo keyframe dove vogliamo che la nostra clip arrivi in questo modo lì ci andiamo a fare uno zoom fluido automatico da un punto all'altro del video seconda parte chiaramente non è fondamentale ma le transizioni tra delle clip la cosa che vi consiglio io è di non mettere troppe transizioni perché se no non si capisce tanto nel video o comunque almeno se mettere delle transizioni non mettere le classiche transizioni di powerpoint ma cercare qualcosa magari di un po' più particolare un po' più magari fatto meglio come la risolvenza normale o qualsiasi altra cosa che però non sia la tipica risolvenza powerpoint terza parte regolazione dell'audio quindi andremo qua con questa linea sotto il video andremo a regolare il nostro audio andremo a alzarla abbassarlo oppure direttamente a toglierlo e chiaramente negli effetti in alto a destra dove c'è anche la parte per zoomare che vi ho fatto vedere prima nella parte audio selezionando la clip possiamo andare a abbassarla e alzarla ma andare a mettere degli effetti particolari quarta parte andare a mettere degli effetti visivi e dell'audio e dell'audio ad esempio di rumore e delle altre cose che possiamo andare a scaricare da dei siti tipo freesoundeffect.org che sono gratuiti oppure per quanto riguarda il video possiamo andare a scaricarlo da dei siti bisogna pagare però chiaramente la licenza oppure farli noi e poi andare a metterli all'interno del nostro video come birollo o comunque figatelli parte 3 color correction che è forse la parte più per quale si sceglie di solito da vinci resolve la prima cosa che bisogna andare a fare è andare a correggere la nostra clip quindi se ci sono zone bruciate comunque se abbiamo un file raw ad esempio di questa camera che sto registrando con la black magic possiamo andare a cambiare un po' chiaramente non tutto ma possiamo andare a cambiare ad esempio gli iso il bilanciamento dei gradi kelvin o comunque molte cose che con una macchina normale non possiamo andare a fare chiaramente con una macchina normale su dove ci risolvo possiamo andare a controllare ad esempio l'esposizione possiamo andare a controllare tante cose possiamo andare a mettere tanti effetti ma la cosa che vi consiglio all'inizio di fare prima di fare un look creativo che vedremo dopo è di andare proprio a correggere quindi fare una color correction perché la differenza tra color grading e color correction è che il color grading si ne andrà a mettere un look personalizzato alla nostra immagine e la color correction invece si andrà a proprio a correggere quella per la nostra immagine quindi andiamo ad esempio andare a fare delle maschere su dei punti ad esempio la faccia la andiamo a schiarire se ad esempio vedevamo che dalla vita reale era una cosa diversa oppure andremo a fare delle altre maschere e delle altre cose chiaramente questa fase è molto importante della correzione perché se andremo a fare un look senza correggere l'immagine si andrà un po' a avere un'immagine un po' strana quindi la prima cosa che bisogna fare è correggere l'immagine se abbiamo delle cose da correggere esitare il bilanciamento del bianco se abbiamo la possibilità di farlo con un file raw se non ce l'abbiamo non farlo e comunque andare a controllare questi parametri che sono fondamentali secondo passo è la regolazione della luminosità questa cosa è molto importante proprio come la prima infatti se andremo ad avere una clip sottoesposta di qualche stop potremo andare anche a recuperarla con qualche camera chiaramente non con l'iPhone ma con le camere professionali tipo la mia si può andare a recuperare qualche stop di sottoesposizione e qualche stop di overexposing però chiaramente scene in cui una luce è bruciata come qua dietro come vedete non si può andare a recuperare almeno se non avete il file raw se avete il file raw si può andare a sistemare qualcosina ma chiaramente non si può andare completamente a stravolgere l'immagine la particolarità del file raw sono i file che si possono andare a registrare con le macchine professionali tipo la URSA, la mia ma anche con le Blackmagic Pocket o comunque con altre camere è il fatto che possiamo andare a cambiare gli ISO in postproduzione possiamo andare a cambiare tante cose in postproduzione che con altre camere non possiamo fare assolutamente sempre nel secondo passo chiaramente c'è la saturazione e il contrasto dell'immagine ad esempio questa è un'immagine più contrastata di questa quindi vedete la differenza e soprattutto anche la saturazione dell'immagine perché con un'immagine zero saturata sarà un'immagine in bianco e nero un'immagine super saturata sarà un'immagine comunque molto strana molto satura con i colori molto vividi però chiaramente questi effetti vanno utilizzati solo se il video c'entra con quella cosa ad esempio la roba in bianco e nero si può mettere quando ad esempio c'è uno sbaglio quando tipo non so se c'è qualcosa nella scena che non dovrebbe succedere si mette in bianco e nero si stoppa la musica è importantissimo e si va ad esempio a fare un crop out quindi una questa cosa qua un dezoom quindi la mia immagine adesso è più piccola e c'è un bordo nero come vedete all'esterno però chiaramente si può fare solo nei casi in cui c'è la necessità si può fare anche quando non c'è la necessità però chiaramente è consigliata almeno io consiglio di farla solo questa cosa del bianco e nero tra virgolette molto comica solo quando è necessaria non sempre cioè non abusate ne troppo perché sono effetti che comunque vanno utilizzati poche volte e vanno utilizzati con parsimone soprattutto perché se no si rovinano davvero le immagini e si rovinano un video che potrebbe essere bello ma se ci mettiamo troppi effetti poi si va a rovinare tutto terzo passo anche questo fondamentale come vi accennavo già prima creare un look personalizzato nella nostra immagine ad esempio il tene l'orange che è questo oppure un bianco e nero come ho detto prima che è questo tantissimi look si possono andare a creare nella pagina di Daminci ce ne sono tantissimi già preinstallati ma chiaramente potremmo andare a crearne uno nostro chiaramente andando a cambiare i vari stagi le varie cose e soprattutto per andare a fare una color importante per fare una color e un look personalizzato comunque importante semmo un soggetto andiamo a creare una maschera attorno e andiamo ad esempio a enfatizzarlo quindi andiamo a scherirlo leggermente scurire lo sfondo quindi con l'avventatura o comunque con effetti del genere e soprattutto io non sono un esperto di color correction non lo ammetto perché non ho studiato non ho fatto nessun corso non ho studiato parte 4 chiaramente esportazione e condivisione nel nostro file una volta che abbiamo fatto il video la musica e la color correction è la parte più fondamentale esportare il nostro video nel modo corretto vi lascio un video di Giovanni De Chiara che è il modo in cui si può andare a esportare un video di avvenici e risolvi in modo corretto io lo volevo fare ma l'ha fatto prima lui quindi vi lascio il suo video per non fare concorrenza ma ve lo lascio in descrizione ve lo lascio qui in alto nelle schede è un video molto completo fatto molto bene sul quale andare a esportare su quale stagione andare a esportare un proprio video io chiaramente non ve lo dico perché sennò vi spoilerò il suo video ma chiaramente ve lo lascio qui in alto nelle schede e che dire niente dopo questa fase chiaramente andare a esportarlo sul nostro su youtube piuttosto che su altre piattaforme per andare a condividere il nostro file il nostro video e chiaramente spero che questo video vi sia piaciuto fatemelo sapere con un commento con un like e con un'iscrizione con un'iscrizione al canale che è ben sopra di 100 chiaramente il video ve lo lascio in descrizione dove non siete iscritti e niente noi ci vediamo come al solito al prossimo video ciao ciao